I carabinieri, i carabinieri. Si è tenuto in procura da Vellino il vertice per fare il punto sulle indagini relative all'assalto al portavalore avvenuto nella giornata di ieri. Un vertice interforce con il quale si è cercato di offrire agli investigatori elementi utili per individuare i responsabili di quella che a tutti gli effetti è parsa un'azione di tipo militare. Il colpo è fallito solo in parte poiché degli 8 milioni di euro trasportati ne sono stati trafugati due. Nessuna traccia ematica all'interno delle carcasse delle auto lasciate e date alle fiamme dai banditi. Lo scenario ieri era da guerra. Nessun ferito, un vero miracolo. Armi automatiche Mitra e Kalashikov usate in due distinti conflitti a fuoco nella corsia nord, poi sacchi di chiodi gettati per mettere in difficoltà gli inseguitori e l'asfalto che ancora oggi mostra i danni degli incendi innescati dai banditi per guadagnarsi la fuga. Il raccordo in direzione a Vellino aperto solo all'alba di oggi. I rilievi e messa in sicurezza sono andati avanti per tutta la notte su quei 5 chilometri trasformati in un campo da combattimento da un commando di una dizina di persone, forse 15, intenzionati a impossessarsi del tesoro contenuto nel portavalori Cosmopol scortato da un furgone. Erano 5 le guardie giurate a bordo dei mezzi che sono state selvaggiamente picchiate e fatte scendere. Li hanno costretti a sdraiarsi sul salciato mentre sfondavano la parete del mezzo con l'impiego di una ruspa portata sul posto a bordo di un furgone bianco. Il mezzo ha sfondato la blindatura ma la spuma block ha tenuto in salvo parte del tesoro generando schiuma poliuretanica che ha congelato il bottino milionario e ha fatto in parte fallire il colpo. Sembra che i banditi avessero l'accento pugliese, hanno riferito più testimoni, ma qualcosa è andato storto e il colpo è riuscito in parte. Dieci auto bruciate per coprirsi la fuga, la macchina di una signora in transito e la jeep di un uomo fatto scendere sotto la minaccia di un mitra rubate per scappare. Altre auto sono state speronate nella fuga. Tutto è avvenuto in una rapida sequenza. Durante il colpo non sono mancati momenti di tensione con un carabiniere cinquantenne che seguendo l'istinto si è lanciato in solitaria a tentare di bloccare il gruppo di banditi. Lo hanno visto in tanti sfilare tra le auto e arrivare sulla scena del crimine. Grazie. 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 Grazie.